Sono un consigliere comunale di strada, cerco di essere nei limiti del possibile, non dico ovunque, ma in tantissimi posti per dare voce alle segnalazioni che voi mi fate, per ampliarle mediaticamente e per poi andare a portare quei problemi nelle sedi comunali competenti. Ovviamente non posso essere ovunque e allora vi ho detto amici, ragazzi, mandatemi i vostri video, le vostre foto e io cerco di divulgarle. Ho ricevuto con piacere dei video e delle foto da parte di un ragazzo di 18 anni del quartiere Paolo VI di Taranto, Marco. Queste foto mi hanno davvero aperto il cuore perché mi fanno capire come in questa città ci sono persone che vogliono davvero il bene della nostra Taranto. E la cosa è ancora più significativa visto che viene da un ragazzo di 18 anni che abita in un quartiere difficile, in cui c'è tantissima brava gente e questa brava gente merita il rispetto e merita di vedere onorata la propria dignità di cittadino. La segnalazione riguarda i giardini Mazzarella che si trovano appunto a Paolo VI nei pressi della caserma dei Carabinieri di fronte alla stazione di rifornimento dell'Eni. Bene, un dei giardini, un piccolo parco in cui c'erano dei giochi, era un parco attrezzato per i giochi dei bambini che negli anni questi giochi sono stati praticamente distrutti fino a scomparire. Molti di questi giochi sono stati vandalizzati e quindi tra incuria e devastazioni varie protratte negli anni chiaramente ora non resta più nulla come mostrano le immagini. Basta vedere le altalene distrutte, gli scivoli distrutti, le panchine divelte e quant'altro. Insomma uno stato di abbandono, di degrado, di incuria, di menefreghismo da parte dell'amministrazione Melucci. C'era, c'erano una volta i giochi per i bambini, ora non ci sono più devastazioni su devastazioni, distrutti i semafori e distrutta anche l'insegna della fermata del bus. Peraltro la zona è completamente buia. Dopo queste devastazioni restano solo i pali. E ripeto, ho voluto dare spazio a questa segnalazione di Marco. È bello pensare che ci siano dei ragazzi che credono in qualcosa. Avrò il piacere di conoscere Marco di persona perché non lo conosco, però ci fa capire che c'è gente che vuole una Taranto migliore. E certo dobbiamo condannare questi episodi di criminalità, questi atti vandalici, condannarli senza se e senza ma. Però poi l'amministrazione deve intervenire, deve invertire la rotta. Non è certo una giustificazione quella di dire c'è stato l'atto vandalico, è stata distrutta quella zona e allora quella zona così rimane abbandonata per sempre. No, allora tua amministrazione, quindi coinvolgendo le forze dell'ordine, i vigili urbani in unione con le forze dell'ordine, intanto devi assicurare la sicurezza in quelle zone. Quindi ripristini lo stato dei luoghi, rimetti, cara amministrazione Melucci, i giochi lì, fai in modo che ci sia un'azione sinergica con le forze di polizia e magari, cosa ancora più utile, metti un sistema di videocamere, di videosorveglianza per andare a stanare questi mascalzoni che distruggono. Bene, ho voluto far vedere questa zona perché i bambini di Paolo VI, i ragazzi di Paolo VI hanno diritto ad avere dei polmoni verdi, dei luoghi dove si possa giocare, dove si possa vivere la propria infanzia, la propria fanciullezza. Questo è il messaggio importante che vi lancio e che davvero devo ringraziare questo ragazzo Marco di soli 18 anni. C'ha tanto da insegnarci e anche io da consigliere comunale di 51 anni devo dire grazie, devo imparare perché c'è una Taranto migliore e per questa Taranto io voglio spendermi, voglio rappresentare questa Taranto, voglio difendere questa Taranto. Credo di averlo fatto in 21 anni di attività giornalistica e credo che lo sto facendo col massimo degli sforzi da un anno e mezzo a questa parte da quando mi sono insediato come consigliere comunale.